La storia di Monaco è stata una memoria difficile d'assunto, anzi per prendermi un'assenza di memoria. Solo più di 40 anni è stato avendo un monumento, solo all'inaugurazione dell'Until di Totto nel 2001 è stato osservato un minuto di spenzio. Non si tratta solo di rispettare il cordoglio dei parenti e di loro vittime. La storia di Monaco è stata un attacco allo spirito di pace dei giochi vittici. Nell'antica creazione di parte reale venivano sospese tutte le ore.